Le 18 firme depositate davanti al Vice-Segretario del Comune di Teramo segnano lo scioglimento del Consiglio Comunale e la conseguente caduta della Giunta a Brucchi. Sì, è la fine inevitabile di una agonia troppo lunga, a cui questo centrodestra ha condannato la nostra città da almeno due anni, una lotta solo e esclusivamente dettata da conservazione di potere e da un tentativo di mantenere delle poltrone. Il problema è che questa città da troppo tempo è ferma, c'è uno stallo politico e amministrativo inaccettabile, gli uffici sono completamente allo sbando, senza un indirizzo politico ormai da troppi anni e ogni giorno in più di prosecuzione di questa agonia sarebbe stato un sacrificio inaccettabile per questa città. Il fatto che il gruppo principalmente responsabile del fallimento politico del centrodestra, il gruppo di Futuro In, abbia partecipato a questa sfiducia è sintomatico del fatto che si tratta di un'autosfiducia. Non possiamo che ripeterci, da due anni che noi dicevamo che purtroppo si andava verso questa direzione se non si sarebbero presi gli opportuni interventi. Sono due anni che praticamente non si amministra la città ed è sotto gli occhi di tutti quello che è successo. Noi avevamo il dovere come opposizione di mandare a casa un sindaco che non ha più i numeri per governare e non è più in grado di approvare dei progetti nell'interesse della cittadinanza. Dobbiamo ridare la parola al popolo che dovrà scegliere una nuova classe politica, anche in grado di adottare delle proposte come quelle proposte dal Movimento 5 Stelle, come ad esempio la tariffa puntuale, l'assegno civico, il baratto amministrativo. Noi vogliamo una classe politica in grado di governare e non solo di limitarsi all'ordinaria amministrazione. Anche il PD con un patto firmato? Sì, il PD ha fatto opposizione dal primo giorno in maniera seria, meticolosa e chiara, ha evidenziato tutte le problematiche di questa amministrazione, problematiche che alla fine hanno fatto riflettere anche gli altri consiglieri di centrodestra e quindi finisce il modello Teramo. Finisce il modello Teramo dopo 13 anni, noi siamo pronti a riprendere la città e rigenerare una città con le macerie non solo del terremoto ma anche di un'amministrazione che è stata tre anni solo a litigare e non ha portato nulla a questa città. Noi avevamo il dovere e un'altra responsabilità era quello di mandare a casa il sindaco perché abbiamo sempre lavorato negli anni affinché questo accadesse. Quindi tiriamo le fila di un discorso che è cominciato più di tre anni fa con un comune che è arrivato in dissesto finanziario, un comune che ha grave criticità. Non si poteva andare avanti così perché mancava di fatto una maggioranza e un governo cittadino. La responsabilità politica da parte della maggioranza è sicuramente del gruppo di Futuro In che dapprima ha appoggiato il sindaco e poi lo ha tradito infine per cui le responsabilità politiche ovviamente vanno attribuite anche a quel gruppo politico. Adesso la città è libera, è libera di ripartire, è libera di avviare un nuovo rinascimento. Ce n'è immenso bisogno, c'è la necessità di tornare rapidamente alle elezioni. Speriamo che il commissario straordinario riesca a risolvere quei problemi importanti che ci sono ancora sul piatto. Io confido molto nei giovani, spero che vogliano i giovani questa volta prendere la guida della città, portare idee, portare iniziative, portare progetti perché ce n'è un gran bisogno. La politica a destra e a sinistra, la politica che ha governato per vent'anni, l'opposizione che c'è stata per vent'anni, hanno dimostrato di non essere in grado di risolvere i problemi della città. C'è bisogno di rinnovamento, c'è bisogno di una nuova crescita. Sicuramente alle prossime elezioni votate nessuno di questi. Questo è il consiglio che posso darvi da cittadino, ormai da cittadino perché non sono più consigliere comunale.